Ditta Suner, il consiglio principale di Gisela, gruppo multinazionale, presentiamo tutte le unità di lavorazione e asportazione a cucciolo, le teste multiple, teste per centri di lavoro, teste per torni e diciamo che la novità di quest'anno è, secondo me, soprattutto il fatto che Suner festeggia i 100 anni dalla sua fondazione.